Salve a tutti e benvenuti in questo nuovissimo filmato Oggi cosa mangio in un giorno? Partiamo dalla colazione che come state notando è una colazione un po' diversa dal solito Perché delle volte, a parte il tè che non manca mai o biscotti e così via Mi capita che ho voglia di fare colazione salata E generalmente quando faccio la colazione salata, quelle poche volte che mi capita che ho voglia e così via La faccio così Partiamo con tazzona di tè che non manca mai assolutamente Poi vicino una mela, qui vedete la mela dell'Happy Meal Perché il giorno prima ero stata al McDonald's, me la sono mangiata per colazione Poi vicino la mia colazione salata, generalmente si compone di un bel paninozzo Faccio questo uovo ad occhio di buio, ci metto la paprika, chiudo E questa è la mia colazione un po' mix, che amo da morire quando ho voglia di salato Siamo al pranzo, per pranzo ho mangiato delle semplici lenticchie con vicino una bracciola di maiale Perché ogni tanto la carne rossa ci vuole Per merenda non ho mangiato niente, non ne avevo voglia e il compenso avevo voglia di bere qualcosa Infatti mi sono fatta questo tè freddo al limone, veramente eccezionale, bello fresco, avvolgente Che ci stava non da dio ma di più Se non ho mangiato riso, orzo, farro condito con un po' di lenticchie avanzate del pranzo E un po' di cicoria spezzettata, un goccino di olio al peperoncino Perché lo sapete, con me il piccante e le spezie non mancano mai E il gioco è fatto, veramente una cena deliziosa Cluto in bellezza, col post cena, un altro bello infuso fresco Questo fragola e arancia ragazzi Ci sta dai, ci sta assolutamente E con questo è veramente tutto Vi dico che venerdì non vedrete nessun nuovo video Di conseguenza ci vediamo direttamente lunedì 14.30 con un nuovo filmato sul canale Io vi mando un bacione immenso Vi auguro a questo punto buon weekend E ci vediamo lunedì, ciao!